Buongiorno a tutti. Durante un lungo inverno due porcospini che avevano molto freddo si trovarono in un bosco e decisero di stare vicini per sopportare al meglio questo freddo. Allora si misero belli vicini vicini, però col tempo gli aculei facevano male e quindi si lamentavano mi fai male, mi fai male, stai più distante e così. Quindi ogni tanto si staccavano, ma quando si staccavano stavano male perché avevano freddo. Allora tornavano stretti stretti, ma stretti stretti avevano fastidio gli stiacule in occhio che pungono il corpo. Quindi si staccano ancora e poi tornano stretti stretti. Fino a che un giorno, da lontani e lontani, trovano una posizione migliore che permette loro di provare il calore reciproco, ma anche di non pungersi. Questa è un po' una metafora della condizione umana, secondo me. Come esseri umani abbiamo bisogno della relazione con gli altri, così come di mantenere la nostra individualità. E questo lo sappiamo tutti, anche nelle nostre relazioni di coppia o con gli amici o con i familiari, no? C'è volontà di stare insieme a una persona, ma anche la volontà di essere se stessi. Nelle relazioni di coppia accade, come sappiamo, che inizialmente si vedono soprattutto le cose simili, quindi si sta stretti stretti. Però poi col tempo capita che certe cose in realtà la persona ci possono pungere, far male. Allora è giusto un pochino, no? Trovare una giusta distanza, così da poter stare con la persona a cui vogliamo bene, che ci attira, però mantenendo anche le nostre individualità, così come con i partner, ma anche con le relazioni con gli amici e con i familiari.